Non è facile, sembra di fare un po' di uncinetto, Andrea sembra essere rimasto dietro la colonna. Ma Massimiliano, devono andare per forza in filo o possono saltare anche i buchi e mettere a quello più alto? Non possono saltarlo e anche volendo sarebbe quasi impossibile perché non riusciresti poi a recuperare il piolo più basso. A un certo punto bisogna veramente usare tutto il corpo, allungarsi per diventare quasi due metri, i batussi, però la verità è che bisogna posizionare almeno altri due travi, almeno questo sembra essere la regola del gioco. Nel frattempo mi sa che ci siamo, Valentina ha conquistato e anche Andrea si devono tuffare entrambi in acqua, ormai la finale di questi primitivi, un rush finale, bracciate, vincenti per Andrea che va a conquistare il secondo titolo dei leader. Ammollato, Valentina ha ammollato, è il leader, Andrea Cerioli, complimenti Andrea, sei il leader dei primitivi! Grazie a tutti!